Se posso Sindaco, cambiando un attimo discorso, da Torino qualcuno ha storto un po' il naso per la nomina di Mazzoleni, ex Presidente dell'Urgno degli Archivetti di Milano, in realtà la sua figura può unire ancora di più le due città e magari esportare il modello urbanistico milanese anche a Torino? Io conosco Mazzoleni, è un professionista certamente capace, se devo confessare nella mia lista potenziale degli assessori all'urbanistica, l'avevo anche considerato, e poi ho fatto una scelta interna, quindi ho scelto Tancredi, per un motivo molto preciso, e cioè il tempo è adesso, anche i fondi del PNRR dovranno essere indirizzati in maniera immediata, io ho preferito fare una scelta su una persona che conosce alla perfezione regole e macchine, però proprio per testimoniare anche un po' la stima dei fondi Mazzoleni, è una persona che avevo valutato, quindi io mi auguro che invece sia una scelta corretta, credo che con i nuovi sindaci, ovviamente che con Gualtieri e con Manfredi, però in particolare per vicinanza geografica, io mi sono già sentito sia con un russo che con il sindaco l'Equore a Bologna e cercheremo di vederci in fretta.